Il lupo è ritornato di Geoffroy de Penard Babalibri Stasera il signor coniglio ha paura di andare a dormire. Ha appena letto sul giornale una notizia terrificante. Il lupo è ritornato. Il signor coniglio corre a chiudere la porta a doppia mandata quando all'improvviso, toc, 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 accipicchia il lupo. Apri presto, siamo noi, i tre porcellini. Per favore, signor coniglio, lasciaci entrare. Abbiamo tantissima paura. Il lupo è ritornato. Entrate, amici miei, è un sollievo vedervi sani e salvi, dice il signor coniglio. Il signor coniglio ha appena chiuso la porta quando all'improvviso, toc, 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 ai ai ai, ecco il lupo. Sono io, la signora capra, con i miei sette capretti. Veniamo a cercare di fuggire da te, signor coniglio. Hai sentito l'orribile notizia. Il lupo è ritornato. Entra, cara amica, entra con i tuoi piccoli. Sono felice di vedervi, dice il signor coniglio. Tutta la famiglia si accomoda quando all'improvviso, toc, 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 sarà il lupo che bussa così? Sono io, Agnellino. Ero già a Ruscello quando l'ho saputo. Non posso più rientrare a casa. Il lupo è ritornato. Coraggio, Agnellino, dice il signor coniglio. Vieni a scaldarti. Agnellino si avvicina al fuoco quando all'improvviso, toc, 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 stavolta è il lupo di sicuro. Sono io, Pierino. Ho disobbedito al nonno e sono a caccia del lupo. Lo sapete, vero? È ritornato. L'avete visto? È a casa vostra? No, no, risponde il signor coniglio. E speriamo di non vederlo mai. Entra pure Pierino, sei il benvenuto. Pierino si unisce agli altri quando all'improvviso, toc, toc, toc. Forse il lupo, esulta Pierino. Sono io, Cappuccetto Rosso. Apri, nonna. Ti ho portato i biscotti e un vasetto di marmellata. È la casa sbagliata, Cappuccetto Rosso, dice il signor coniglio. Tua nonna ha traslocato. Comunque entra, svelta. Non dovresti andare a spasso nel bosco. Il lupo è ritornato. E se ne approfittassimo per cenare insieme? Propone allora il signor coniglio. Tutti pensano che sia un'ottima idea e in un battibaleno preparano una cena deliziosa. Gli amici sono già a tavola quando all'improvviso... Bum! 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 Che strano, dice il signor coniglio stupito. Non aspettiamo più nessuno. E il lupo è a molta, molta fame. Ma appena fa un passo il coniglio, i porcellini, la capra, i capretti, l'agnello, Pierino e Cappuccetto Rosso si gettano su di lui. Il lupo è steso a terra quando il signor coniglio inizia a parlare. Lupo, non abbiamo più paura di te. Mettitelo bene in testa. E poi aggiunge. Se prometti però di fare il bravo e di raccontarci delle storie da lupi, allora ti invitiamo a cenare con noi. E così quella sera, intorno a una tavola imbandita, a casa del signor coniglio, il lupo è ritornato. E poi aggiungiamo.